Un anno intenso che è stato caratterizzato per quanto riguarda il CONI-Marche, io direi in due momenti che hanno veramente caratterizzato l'anno 2017. Il primo è quello del rinnovo delle cariche e poi l'altro momento sicuramente importante per quanto riguarda il CONI-Marche è stato quello del trofeo CONI perché penso che sia una manifestazione che ancora ricordiamo per quello che è stata la sua complessità nell'organizzazione ma penso che alla fine la sua bellezza perché è veramente stato un qualcosa di importante. Marche protagonista nel mondo sportivo, in tutto quel movimento anche giovanile, in questo l'impegno del CONI? Il lavoro che noi dobbiamo fare è proprio quello di tutelare questo grande movimento che rappresenta il mondo dello sport, sensibilizzare il fare sport. La nostra regione è sicuramente tra le prime in Italia per quanto concerne il numero di tesserati in proporzione, il rapporto alla popolazione però questo non basta perché i dati sono veramente preoccupanti a livello nazionale. Più della metà della popolazione non fa sport e non fa attività motoria e questo non va assolutamente bene ma non perché non creiamo campioni ma perché sicuramente non creiamo delle persone sane e quello che è il benessere fisico della persona che può derivare nel fare la pratica sportiva. Impianti strutture nell'anno del sisma o meglio l'anno dopo il sisma? Il nostro impegno oramai da anni è quello di tenere sotto controllo quella che è l'impiantistica sportiva. Questo riusciamo a farlo grazie alla regione Marche che ci sostiene economicamente per tenere aggiornato il portale degli impianti sportivi. Sapere quanti impianti abbiamo nella nostra regione era importante. Dopo i fatti del terremoto abbiamo ritenuto veramente fondamentale conoscere quanti impianti sono stati interessati dal terremoto. Per il momento sappiamo quelli che sono gli impianti dei comuni colpiti dal terremoto che sono poco meno di 500 però di questi stiamo in questi giorni partendo con un nuovo censimento per capire quanti di questi sono in questo momento utilizzabili. Le prossime sfide quali sono? I programmi che ci siamo posti sono tanti, ne voglio citare però solamente una proprio perché ci stiamo lavorando in questi giorni che è l'attività all'interno della scuola primaria affinché nelle scuole primarie in tutte e cinque le classi si possa fare almeno un'ora di attività motoria. Grazie. Grazie.